Bene, siamo in live da questo momento. Molto bene, molto bene. Aspettiamo questi altri 3-4 minuti e poi partiamo con la diretta. Comunico anche che parto con la registrazione dello Zoom. Grazie. Grazie. Bene, allora qualche altro minutino. Siamo già quasi 300 persone nella sala e quindi diciamo che ancora abbiamo un buon margine per chi entra essendo, voglio dire, una giornata estiva. Siamo al 5 agosto, già bravi chi si collega in diretta. Ovviamente li ringraziamo tutti. Anche il detrattore, ci sarà anche il detrattore di sicuro. Grazie. La vedita, la vedita. Grazie. 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 Volevo comunicare che è entrato anche l'avvocato. Grazie. 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 Molto bene. Bene, sono le 21, allora io direi di cominciare con questo nostro ZTL. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie di essere con noi, come sempre, in numerosi sia nella sala in diretta qui di Zoom. Noi lo chiamiamo ZTL, come sapete, Zoom Tavolo delle Libertà e grazie anche a quelli che sono nella diretta di Facebook dalla nostra pagina. Questa sera ci vogliamo concentrare sulle note che in qualche modo dal 31 luglio ci sono state, voglio dire, catapultate addosso alla nostra organizzazione, visto quello che è successo nell'andare a depositare in tutta Italia quegli esposti che noi abbiamo definito epocale, quell'esposto che noi abbiamo definito epocale e che riteniamo sia un impegno civile degno di quei partigiani del terzo millennio che io chiamo eroi. E quindi grazie a quelle 4.000 e rotte persone che fino ad oggi, pur con migliaia di difficoltà e troppo fango a tutti i livelli, ci viene, diciamo così, scaraventato addosso, hanno avuto fiducia in quello che diciamo e promuoviamo e hanno preso il coraggio di presentarsi a portare un esposto presso uno degli uffici di polizia che in qualche modo sono così diffusi in tutta Italia. Chi lo ha fatto dai carabinieri, chi lo ha fatto dai commissariati di polizia, chi l'ha fatto alla Guardia di Finanza, c'è chi l'ha fatto ai vigili. In tutta Italia, soprattutto presso le caserbe dei carabinieri, c'è stato un grande, diciamo così, assembramento, verrebbe da chiamarlo oggi. E quindi ringraziamo quelle persone che hanno dovuto attendere magari sotto il sole parecchi minuti prima di poter entrare in queste caserbe che sono ovviamente prese dalle norme che indicano di dover restare distanti, eccetera, eccetera. Bene, questa sera abbiamo in particolare tre ospiti. Sono l'avvocato dello studio legale che finalmente, visto che l'operazione è partita ufficialmente il 31 luglio, può essere qui con noi a spiegare e soprattutto a rispondere alla domanda che sicuramente più di qualcuno di voi attende di fare e farà. L'avvocato Saverio Lauretta. Insieme all'avvocato Saverio Lauretta abbiamo il nostro ospite d'eccezione, lo scienziato, l'immunologo, l'allergologo, il medico chirurgo Salvatore Reino e naturalmente è il presidente della Confederazione Consì che abbiamo la fierezza, l'onore in qualche modo di vederci rappresentato quel programma Mondo Migliore che noi da cinque anni stiamo portando avanti, rappresentato nella maniera istituzionale. Quindi ringraziamo Fabrizio Azzolini che oltre a essere presidente della Confederazione Nazionale è anche, punta sua, il regionale e fra un po' l'interregionale dei circoli CLEM del Veneto e a Fabrizio Azzolini diciamo davvero grazie perché ha custodito, non appena gli sono arrivate, le mille card che saranno poi a breve consegnate e poi riempite a quei mille che partiranno a breve a dimostrare tutto il percorso che noi abbiamo promosso da cinque anni compreso questo miracolo del microcredito sociale promosso da privati. ma questa non è la puntata dove parlare di questa iniziativa a breve ne faremo una che credo sarà davvero epocale anche quella e andiamo avanti con calma perché noi lo abbiamo detto dal primo giorno che avremmo fatto questo miracolo e lo facciamo. Perché? Perché sappiamo che si può fare non perché siamo dei pazzi visionari. Quindi questa sera in particolare ci concentriamo su questa iniziativa davvero importante che abbiamo voluto prendere e l'abbiamo voluta prendere dopo circa cinque mesi di monitoraggio di tutto quello che sono state le denunce, querele, esposti fatti da diversissimi avvocati insomma per personalità nel mondo degli studi legali. Però la mia esperienza di 35 anni come vi dico spesso ha voluto monitorare fino in fondo tutto ed essere attento a cercare di dare poi il passo a quello che ritenevo la via migliore. La via migliore ce l'ha data uno studio legale che peraltro noi conoscevamo già e che per un certo periodo ci ha anche seguito poi insomma la vita è fatta anche perché ognuno vada dietro ai propri affari, alle proprie cose, alle proprie professionalità e per un periodo c'eravamo un po' così persi di vista ma quando ho visto il suo articolo, la sua nota su quello che aveva e avrebbe voluto fare beh l'ho chiamato immediatamente e gli ho detto che il partito valore umano avrebbe voluto essere in qualche modo partecipe di quelle sue riflessioni e assolutamente essere il primo firmatario se era possibile di quello che lui aveva immaginato. Cos'è che aveva immaginato? Aveva immaginato di non puntare il dito verso nessuno ma fotografare tutto quello che è stata l'iniziativa promossa fin dai primi giorni della così emergenza dichiarata pandemia e quindi insomma questo distanziamento questi vaccini che si dice obbligatori, TSO eccetera eccetera ci hanno portato a immaginare che la via più giusta sarebbe stata quella proprio di fare delle domande a chi è deputato a dover rispondere chiedendo in cambio solamente, senza fare accusa alcuna chiedendo in cambio solamente di ricevere un'evidenza scientifica e scientifica dal punto di vista operativo e non solo dichiarato del perché avremmo dovuto fare tutto quello che nell'esposto è specificato. Quindi io per primo presento questa sera l'avvocato Saverio Laureta che so essere in linea quindi gli diamo il video, il microfono eccetera eccetera perché oltre ai saluti se vuole intanto dire come ha visto questi primi giorni che in qualche modo lo hanno portato a lavorare quasi 24 ore su 24 sulle tante domande che gli sono state così rivolte circa il primo momento, il primo passaggio di questi giorni dal 31 ad oggi. Ci sei Saverio in linea? Sì, assolutamente sì. Mi sentite? Eccoci qua. Perfettamente. Ciao, ciao Saverio. Ciao. Buonasera a tutti per quelli che sono collegati e che mi rendono maggio di ascoltarmi. Non sono uno che è molto avvezzo ai convenevoli però apprezzo nello specifico e per questa circostanza è quello che Maurizio ha detto nella premessa per ciò che concerne questa iniziativa al di là che è partorita diciamo da me nell'idea però ovviamente non ho esitato un attimo anche perché non avevo dubbi alcuno su quello che Maurizio poteva oltre che condividere e sostenere. perché i suoi principi sin dall'inizio di quando ci siamo conosciute nell'ambito del progetto e tutte le volte quando mi è stato possibile poter rappresentare e più che difendere sostenere l'azione di Maurizio del progetto e di tutti quanti è sempre stata imperniata sui principi quindi la condotta di Maurizio del progetto e di tutte le persone che ho conosciuto sui principi di legalità giustizia e verità principi sui quali personalmente credo la stragrande maggioranza delle persone che conosco all'interno dei CLEM e di COEM gli appartengono altrimenti voglio dire non saremmo qui a parlare non per uno status mio ma semplicemente perché credo assolutamente su questo Maurizio ha condiviso abbiamo attraverso un protocollo d'intesa definito quelle che erano le 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 motivazioni le strategie il fine da poter andare a perseguire e e questo mi ha trovato questo modus operandi mi ha trovato certamente a condividere nella circostanza a partire dal trentuno e fino adesso ho comunque molto ma molto apprezzato l'intervento il coraggio di ognuno perché voglio dire più volte anche parlando con Maurizio abbiamo sempre condiviso che il male non vince ma laddove il male vince perché le persone per bene si rifiutano di agire ecco qui già con quello che attraverso tutti voi si è potuto fare profondo il mio ringraziamento io dico che personalmente siamo sulla strada giusta non credo che ci sia assolutamente da recriminare nulla sotto alcun profilo né formale né sostanziale mi ha fatto piacere poter intervenire a sostenere mi scuso con qualcuno se per caso non sono stato veloce però laddove è stato necessario intervenire per far capire e far comprendere ancora meglio quella che era quello che era il contenuto dell'esposto credo che tutti quelli che mi hanno contattato possono testimoni che alla fine il risultato del deposito nella forma qualificata che esso è esposto e non altro si è ottenuta anche se qualcuno diciamo un pochino si è potuto arrabbiare ma alla fine il ragionamento da fare è sempre quello che dal mio punto di vista è proprio dalle forze dell'ordine e dalla magistratura che bisogna partire per sistemare queste cose perché l'esposto ma non perché non si possa avere il coraggio di denunciare ma io credo che non ci siano questa è una mia considerazione sin dal primo momento non ci siano non ci siano non ci sono tutt'oggi gli estremi certi per poter qualificare circostanze specifiche di eventuali reati e di eventuali responsabilità ma ci sono solo fatti fatti molte volte che sono anche contrastanti ma che sono nell'evidenza di ognuno che li ha vissuti dal primo giorno e ancora adesso con le prospettazioni voglio dire che ci appaiono su tutti quindi poiché reputo che ognuno deve fare la propria parte in un momento come questo bisogna farla fino in fondo e bisogna farla anche nel proprio ruolo nel rispetto assoluto dei ruoli anche con la massima libertà io reputo che l'esposto sia potuta essere la forma e sia la forma migliore per illustrare i fatti affinché dato che chi dovrebbe dare le risposte alle domande fino ad oggi non le ha potute dare possa diciamo avere gli elementi valutare se queste risposte possono essere fornite sono domande che ovviamente partono dalla considerazione dalla presa d'atto proprio semplice in grado di essere intesa e compresa anche dalla persona che ha meno conoscenza e poca dimestichezza col mondo giuridico perché fondamentalmente si propone una soluzione una soluzione a quello che è il problema ad un problema la pandemia ho personalmente sempre detto che personalmente non come cittadino quindi non sto parlando qui da legale io non sono né pro vax e non e né no vax ma dico semplicemente che quando si prospetta una soluzione in quella che è la quotidianità anche delle nostre condotte del nostro agire comune e qualcuno ci prospetta una soluzione prima di prospettarci la soluzione ci indica qual è il problema quali sono le cause di questo problema il il caro scienziato amico che veramente attraverso Maurizio ha avuto omaggio di poter conoscere frequentare e stimare tantissimo che è il professor dottor Rainò meglio di me può spiegare quale medico che quando un paziente si rega presso il suo studio per ricevere le sue prestazioni e per stabilire voglio dire quale debba essere la cura per la patologia per il dolore per lo stato in cui in cui si trova non è precostituita alcuna soluzione se non andare ad effettuare una serie di indagini diciamo mediche che sotto forma di analisi tutto quello che voglio dire meglio potrà dire dottor Rainò e per poi dire guarda a questo punto la medicina o la terapia è questa solo dopo andando a fare a fare questo tipo e genere di indagine bene l'esposto vuole essere questo ci propongono una 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 serie c'è che la vaccinazione globale proclamata dall'OMS e da tutti i governi sia la soluzione può anche essere che sia la soluzione dal mio punto di vista però ci dicano qual è il problema se quella è la soluzione altrimenti voglio dire diventa illogico andarla a comprendere chi dovrebbe dire chi è il qual è il problema cioè com'è nata com'è sorta com'è diffusa il pepistrello WAN o altro ancora non ha dato base a un'evidenza scientifica documentale ed incontestabile se questo manca a mio modesto avviso ma ripeto a modesto avviso di tutti quelli anche che hanno presentato l'esposto non avendolo detto chi di ricordiamoci che l'OMS è un'organizzazione mondiale che è deputata non ad assicurare ma a garantire la salute e le migliori condizioni ambientali prima di dire questo proclama avrebbe dovuto dire perché è questa la soluzione perché il problema è questo 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 è sorto in questo modo e come ho fatto più volte sempre esempio se già cade un aereo precipita un aereo si aprono due filoni di indagine quantomeno uno interno della compagnia come avete avuto modo di comprendere leggendo l'esposto prima di andarlo a presentare e un altro giudiziario perché quello giudiziario per evitare che ci possa che l'aereo sia potuto precipitare a causa di un di un atto terroristico quello interno della compagnia per capire se ci sono stati problemi nei piani di volo un errore meccanico non fosse altro stabilire le cause per stabilire eventualmente quali debbono essere le azioni migliorative o prevenire in futuro disastri dello stesso tipo e genere ma se ci danno una soluzione non ci dicono qual è la causa da cui quantomeno poter comprendere quello che è un'eventuale situazione dello stesso tipo e genere che si potrebbe nel tempo prospettarsi questo io credo che è una cosa e reputo che sia una cosa che vada chiarita fino ad oggi nessuno lo ha detto salvo ripeto già l'ottava volta che lo dico dare una soluzione per quanti vogliono capire il problema questa è una una delle ragioni per le quali l'esposto deve assolvere e sono sicuro che la magistratura tutta indistintamente perché voglio dire è un apparato un'istituzione dello Stato alla quale personalmente credo profondamente senza riserva senza riserva alcuna una risposta la dovrà dare certo potrebbe non darla il magistrato nel senso che è anche lui un cittadino a conoscenze a conoscenze giuridiche ma saprà a chi rivolgersi come come per chi ha avuto a che fare quando anche si fa una causa per una responsabilità medica non è che il magistrato il magistrato sa di medicina ma si avvale di soggetti che effettuano questo tipo di indagine gli riferiscono il tutto avviene in contraddittorio con i consulenti di parte e via e così via discutendo legalità giustizia e verità quindi l'illustrazione dei fatti è servita solo per mettere uno accanto all'altro quasi come un'applicazione delle regole delle regole investigative e di indagine che avvengono presso tutti i tavoli diciamo deputati per consentire a chi di competenza di valutarli e poi vedere ravvisare se questi fatti fanno emergere circostanze specifiche di reato ed eventuali responsabilità senza che nessuno possa mai affatto o l'esposto incorrere in responsabilità penali quali per esempio la calunnia o altra roba nella scusami Saverio perché stai spiegando stai facendo delle precise riflessioni e spiegando alle persone come me qual è stato il tuo punto di vista che peraltro nell'esposto è direi evidente al 100% almeno per chi vuole leggerlo concentrandosi sui fatti ma direi che la cosa migliore sarebbe passare ad una serie di domande che potrebbero farti gli amici che sicuramente Emanuela Noviello e in qualche modo la persona deputata a raccogliere queste domande e magari dare il microfono io so che in linea ce n'è una in particolare che è quella del regionale ora interregionale della Toscana Andrea Andreini ma comunque lascerei a Emanuela Noviello il compito di elencarti questa serie di domande prima di andare avanti so tra l'altro che tu alle 22 hai un importante appuntamento e quindi dovrai lasciarci per questo facciamo capo a queste domande perché magari riesci a spiegarlo meglio e anche in un botta e risposta è più facile recepirlo prego Emanuela il microfono se hai sicuramente qualche domanda da fare allora chiedono se ho già fatto un esposto con un altro movimento è possibile farne più di uno o ricorro in qualche sanzione ecco domanda secca tranquillizziamo Saverio assolutamente no nessuna pregiudizievole nessun limite non cioè non se io ho presentato un esposto posso fare mille denunce querele esposti non 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 c'è questo questa preclusione ecco non non esiste Emanuela vai pure avanti bene quindi zero problemi se uno fa un esposto ne può fare anche altri dieci state attenti ovviamente a quello che c'è scritto dentro l'esposto prego ok ci sono due persone che chiedono di fare una domanda io leggo Giovanni Vessena e Carla Corradi se vuole parlare Giovanni Vessena per primo diamogli il microfono Giovanni Vessena Giovanni Vessena ci sei? sì ci sono ecco dai buonasera a tutti sono Giovanni Vessena delegato competente regionale del PVU per il Piemonte allora faccio innanzitutto ringrazio il dottor Laureta perché io il suo esposto l'ho letto e l'ho presentato alla caserma di Carabinieri di Alessandria e non ho avuto nessuna nessuna noia da parte delle forze dell'ordine lo hanno accettato e non ce n'è stato nessun problema sono qui a fare questa domanda qua perché ho ricevuto per conoscenza una mail che è stata mandata anche al SOS partito valore umano allora in questa mail mi chiedevano delle spiegazioni su un su un pezzo che appare su un un trafiletto che appare a pagina 59 dell'esposto forse il dottor Lauretta ce l'ha presente vado avanti a leggerlo allora con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia querela in relazione ai fatti rilevabili nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti dovessero emergere fatti specie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte allora a seguito di questo piccolo trafilo la persona che ha mandato la mail si è sentita un po' impaurita da questa da questa dicitura denuncia querela in quanto poteva avere magari delle ritorsioni da parte di qualcuno io ho capito questo piccolo trafiletto vorrei se per favore il dottor lauretta ci spiegasse cosa intende dire con questo piccolo trafiletto qua in modo che le persone che hanno letto queste due parole siano messe in tranquillità e possano andare tranquillamente a fare l'esposto come vorrebbero fare grazie bene allora intanto una piccola precisazione non è ovviamente il mio esposto io ho redatto un esposto è l'esposto per quanti si vedono in questa situazione quindi è l'esposto è l'esposto di tutti per ciò che concerne per ciò che concerne quel trafiletto ossia quella formula che è poi di rito negli esposti rimando la la spiegazione a quello che voglio dire già prima di me mi risulta aveva spiegato in maniera precisa e puntuale la collega nonché presidente vicepresidente del consorzio del consiglio l'avvocato Maria Luisa Rossi ossia mentre nella con un atto querelatorio una persona espone dei fatti ed indica quella che specificatamente è una circostanza che è lui stesso il querelante a ravvisare come reato a seconda se poi questo reato lo attribuisce ad una persona specifica oppure ad ignoti e fa la querela solo quando il reato che si ravvisa è un reato procedibile a querela di parte per esempio la truffa va bene se invece è procedibile d'ufficio fa la denuncia nell'esposto invece non c'è come avete avuto modo di vedere voi una definizione circostanziata un'indicazione precisa di di reato di circostanze che costituiscono il reato e quindi c'è scritto si chiede all'autorità giudiziaria competente di verificare la sussistenza dei reati di cui è l'articolo nonché di perseguire le persone tizio sembronio per questo va bene non c'è messo questo nell'esposto si dice solo alla luce dei fatti indicati esposti come avete avuto molto di vedere se ci sono verifica tua autorità giudiziaria se questi fatti fanno emergere ipotesi di reato e se queste ipotesi di reato se questi reati sono attribuibili a persone che tu individui e identifichi quando poi va nell'ipotesi in cui andasse a individuare ipotesi specifiche di reato che si evidenziano nelle condotte sui fatti rappresentati per quelli procedibili d'ufficio va bene allora si andrà avanti per quelli invece che la magistratura dovesse rilevare acquerela di parte cosa succede? l'esposto dice questo che per quelli perseguibili acquerela di parte ovviamente perché l'esposto ha una sua funzionalità che è quella che se dai fatti emergono circostanze di reato l'autorità giudiziaria e quindi anche io personalmente intendo andargli a perseguire ma è l'autorità giudiziaria che dirà che dai fatti indicati ci sono emergono circostanze di reato che devono essere perseguite a querela di parte quindi è solo in quella ipotesi che l'esposto diventa anche un atto querelatorio per i fatti perseguibili a querela di parte e in questo caso è chiaro ed evidente che mentre nella querela alla magistratura gli si dice di andare a verificare che io individuo una persona responsabile di un fatto qui è già lei che dai fatti la individua per un reato perseguibile a querela di parte e quindi la ragione per la quale anche in maniera molto chiara e precisa l'avvocato Rossi questa cosa la spiegò così come mi risulta diverse settimane fa quindi non è assolutamente non è una formula che si presta a dubbi interpretativi per chi opera nel settore perché poi quando personalmente sono intervenuto per andarla a spiegare gli ho detto anche dove andarla a rilevare quali per esempio una formula di uno studio cioè di un online un facsimile di esposto c'è proprio sempre questa formula quindi parliamo di procedura penale voglio dire quindi nessun problema ecco è stato chiaro sì anche se hai questa formula diciamo così da avvocato e quindi è sempre complicato seguire ripeto una formula da avvocato però sei stato chiaro direi che approfondiamo ancora di più se facciamo grazie a Bassanesi venire fuori il documento che praticamente è il documento che tu hai proposto di inserire nel sito espostoepocale.it e laddove la forza pubblica abbia scritto nel verbale invece che esposto querela o denuncia questo documento che vedremo fra un attimo permetterà di ritornare in caserma o nell'ufficio preposto e chiedere che venga siglato da loro questo documento in modo tale che la persona si senta tranquilla fino in fondo anche se come tu hai sempre detto sempre spiegato nel caso in cui uno non voglia fare tutta questa procedura deve stare comunque tranquillo perché quello che ha depositato è quello che conta non il verbale che fa il carabiniere piuttosto che il poliziotto piuttosto che il vigile piuttosto che il commissario eccetera cioè vale quello che è stato depositato che non può essere cambiato ovviamente non è che c'è gente nelle forze dell'ordine che si diverte a cambiare le cose per cui la cosa importante è proprio quella di andare a vedere questo documento e magari tu spiegarlo certamente ma l'indagine infatti non viene aperta e portata avanti sulla qualificazione risultante dal verbale di ratifica ma avviene sulla base dei contenuti dell'atto e lì voglio dire è assolutamente inoppugnabile ed incontestabile che nell'atto di esposto non c'è nelle domande nella richiesta né alcuna né né alcuna accusa nei confronti di chi che sia per un reato e né l'indicazione di persone che hanno nome e cognome responsabili del reato mettiamo mettiamo per favore questo documento che troverete sul sito penso che sia facile cos'è sta roba cos'è un'interferenza che cos'è non trovavo il microfono sì scusate una semplicissima interferenza questo è il modulo no perché uno che fa le linguacce allora io sottoscritto quindi bisognerà è il modulo come si evince dal sito perché mi sarebbe piaciuto che oltre al modulo si dicessi andando qui si trova questo modulo è abbastanza facile e trovarlo ecco facciamolo vedere Fabrizio uno entra dentro espostoepocale.it dove va scorre 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 continua a scorrere piano fai le cose piano piano scorre continua a scorrere fino a arrivare a un punto dove c'è scarica scarica il vade me che tutti avremmo dovuto leggere naturalmente qui c'è spiegato tutto del come fare però si capisce che è molto da leggere bisognerebbe che ci fossero i salotti come li facevamo prima del distanziamento sociale sarebbe stato molto più semplice se i referenti avessero potuto fare questi incontri pubblici per spiegare le cose come abbiamo fatto anche in altre occasioni purtroppo la paura fa 90 per più di qualcuno tutti sono come me e quindi giustamente continuiamo a fare degli ZTL invece che trovarci per spiegare con più comodità a tutti perché leggere è più difficile quindi allegato a ricevuta bene scarica aspetta scarica la ricevuta da presentare durante il deposito dell'esposto questo è l'allegato a nel caso tu non sei mai andato a portare l'esposto dai carabinieri questo allegato a è di questo tipo chi ancora non è andato scarichi questo allegato e insieme alle coppie dell'esposto porti anche questo magari i carabinieri la polizia eccetera firmano fanno firmare questa questo allegato che vedremo fra un attimo invece l'allegato B è il modulo di ratifica della ricevuta cioè se uno ha avuto invece che esposto il verbale con la scritta querela denuncia eccetera dovrebbe tornare se ha voglia di rompersi le scatole capisco che è una rotura di scatole presso i carabinieri fissando appuntamento e dicendo guardi lei mi ha dato questa ricevuta io vorrei che lei cortesemente facesse questa allora andiamola a vedere lo apriamo ancora sto linguaggio allora eccola qua io ho sottoscritto si metterà nome cognome nato ha eccetera eccetera con la presente deposita atto di esposto dattilo scritto composto da numero 30 pagine numero 60 facciate se uno ha fatto bianche volta oppure 60 pagine se uno ha fatto le copie senza fare il bianche volta quindi indirizzato alla procura della Repubblica di Roma cordiali saluti luogo e data timbro e firma da parte dei carabinieri eccetera eccetera quindi molto semplice da da farsi perfetto ecco questo invece è quello che l'allegato ha lo dico soprattutto ai referenti regionali provinciali comunali che vogliono in qualche modo incontrare le persone che desiderano avere questo diciamo questa spiegazione e spiegare è che questo allegato può essere portato presso il luogo della forza pubblica che vogliamo in qualche modo incontrare con il deposito da fare dell'esposto quindi questo si usa solo per il deposito da farsi chi lo ha già fatto non usa questo allegato A ma usa l'allegato B questo allegato A dice il sottoscritto nome cognome eccetera eccetera in relazione all'atto depositato il e si mette alla data di quando si va composto da numero pagine ed indirizzato alla procura della repubblica di Roma dichiaro che quanto depositato non è affatto un atto di quale la denuncia così come riportato nel verbale di ratifica ma solo ed esclusivamente un esposto questo ripeto questo allegato B è solo per coloro i quali sono già andati a depositarlo e naturalmente non hanno avuto quello che si aspettavano la scritta esposto invece che la scritta denuncia eccetera Saverio vuoi dire qualcosa tu? Se ci sono domande a disposizione Bene Emanuela ci sono altre domande? Ce n'era una oltre a De Sena chi era? Allora c'erano due persone in lista Carla Corradi e Giuseppe Petrelli non so se magari adesso erano domande alle quali hanno già ricevuto risposte loro si erano prenotati diamogli il microfono Qualcuno in linea? No non aprono non aprono il microfono Manuela mi ripeti il nome di chi doveva aprire il microfono? Carla Corradi e Giuseppe Petrelli erano i prossimi due allora magari andiamo avanti eccomi eccomi eccola qua perché non mi permetteva di aprire il microfono chiedo scusa nessun problema vai allora diciamo che la domanda che ha fatto De Sena era la mia ma non era completa la domanda che ha riportato Giovanni quello che io quello che ha spiegato l'avvocato Lauretta lo ringrazio mi era già più o meno chiaro quello che mi è rimasto come dubbio ok che diciamo la querela parte nel momento in cui la magistratura ha ravvisato gli elementi per arrivare ad un processo nel momento in cui si arriva a quel benedetto processo a quel punto ognuno di noi figura come querelante se per caso Dio non voglia si perdesse questo processo cioè finisse con l'assoluzione o non luogo a procedere adesso io non conosco i termini tecnici noi querelanti potremmo avere qualche ritorsione qualche rischio qualche controdenuncia controquerela eccetera era questa bella domanda bella domanda comunque assolutamente assolutamente no assolutamente no perché voglio dire nel nel procedimento nel procedimento penale voglio dire nel momento in cui ci si costituisce parte civile per la richiesta di possibile ed eventuale risarcimento del danno che poi avverrà in altre e poi avverrà e può avvenire in altre sedi la questione invece è un'altra che ripeto con la querela e la denuncia ci può essere questo tipo di rischio all'inizio ma nel momento in cui voglio dire si incardina un processo ci dovessero essere imputati o si incardina un processo penale non è non non è il processo penale è lo Stato che lo lo porta avanti poi la la persona si costituisce solo per come parte offesa e può partecipare al procedimento non è come nel civile quindi la la domanda della nostra amica che è una domanda pertinente ha una risposta che è tranquilli che anche nel caso in cui diventi un procedimento da parte della magistratura verso Tizio o Caio siccome è un procedimento penale non c'è nessun problema per chi ha fatto l'esposto ok l'unico problema rimane per il sottoscritto che è quello che insomma oggi si porta sulle spalle l'esposto di tutti va bene a parte la battuta insomma è chiaro che non ci sono né i costi dal punto di vista economico né i costi dal punto di vista morale giuridico per tranquillizzare tutti c'è un protocollo d'intesa voglio dire sì noi certo fai bene a dirlo fai bene a dirlo un protocollo d'intesa che abbiamo firmato con lo studio legale che noi del COEM perché il COEM che anche per conto del PVU si è assunto l'onere dopo un verbale fatto in assemblea scusate in direttivo dei soci del COEM che si è preso l'onere di pagare certo chiediamo il contributo per lo meno minimo che tutti voi ci state dando eccetera ma che ce l'odiate liberamente o non ce l'odiate è il COEM che è l'unico responsabile dei costi nei confronti del studio legale lo studio legale così come hanno detto più di qualche detrattore non so se quello che entrava un attimo fa con la linguaccia è uno di questi però dicevo nessuno chiederà costi né di tipo economico né di tipo di altro tipo insomma morale giuridico e quant'altro lo diciamo in diretta e più di avere testimoni 452 persone qui con la registrazione chissà quanti 10 15 mila che vedono la diretta più di dirlo così dovete stare tranquilli di più andiamo avanti con un'altra domanda grazie Carla c'era Giuseppe Petrelli Giuseppe vai però io in chat non vedo nessun Petrelli allora finché non lo ripristiniamo io una domanda la farei fare con una riflessione sia all'amico e grande scienziato Salvatore Raino e anche al presidente del Consigli che da esterno ha senz'altro qualche riflessione qualche domanda da fare anche lui Salvatore a te se hai qualche domanda da aggiungere o qualche riflessione nel frattempo che sentiamo anche gli altri io ringrazio come al solito sono onorato e contento ma sono anche qualcosa di più stasera sono soddisfatto e più motivato che mai perché c'è una corsa che si sta svolgendo ed è una corsa tra un'ombra nera folle di paranoia delle più nefaste che rovina la parte più bella degli individui e della società e dall'altra parte vi è invece una operazione di grandissima legalità direi pazienza e tolleranza di chi veramente crede ancora nella legge scusami un attimo scusami un attimo io mi devo assentare un minutino quindi ti lascio il microfono e mi assento davvero un attimo perché devo uscire un attimino un attimo vai pure avanti stavo dicendo c'è un un esercito di ed è un esercito nel senso che è attrezzato per esercitare delle azioni queste azioni non è detto che siccome sono fatte nella legalità e con spirito democratico siano delle azioni lasche blande anzi il contrario perché la fluidità la raffinatezza direi con cui sono svolti i discorsi e le operazioni ci fa riflettere sul senso che ancora ha anche in una società civile compromessa come quella attuale muoversi secondo le regole io non non posso perdere mai nessuna opportunità per ringraziare l'avvocato lauretta che è riuscito veramente a confezionare con spirito magistrale e con una perfezione applicativa dal punto di vista osservazionale tutti i quesiti che era giusto fare e nel modo più giusto da fare e questo attenzione perché quando lo dice un medico lo dice anche dal punto di vista medico legale e come sapete i medici hanno anche una formazione molto solida medico legale e possono in qualunque momento come pubblici ufficiali intervenire dal punto di vista medico legale non solo come consulenti tecnici di ufficio ma di parte e come curatori di vari tipi di documentazione anche certificativa che praticamente dal punto di vista legale rappresentano i massimi documenti dal punto di vista dell'importanza possibili per chiudere i conti e evitare ulteriori tergiversare quindi noi abbiamo adesso tra le mani uno strumento formidabile che è uno strumento per definizione inattaccabile perché è stato confezionato rispettando tutte le regole e questo è veramente fondamentale proprio dobbiamo addormentarci tranquilli con il capo sul cuscino che non abbiamo fatto un'operazione inutile o azzardata abbiamo fatto l'operazione giusta nel modo più giusto e ringrazio ancora l'avvocato Loreto ma vi voglio esternare delle considerazioni intime ma di quel livello intimo tutto a posto Maurizio tutto a posto Maurizio eccolo qua hai finito il tuo intervento no spero stavo finendo ti stavo chiedendo se è tutto a posto tutto a postissimo sì sì no altrimenti vengo io no non era una questione di salute arrivo con il mio smaterializzatore mi materializzo era una questione di vicini di casa vai vai ah perfetto perfetto niente dopo aver detto alcune cosette così ufficiali volevo aggiungere una considerazione così intima ma di quell'intimo che poi dà la qualità della partecipazione alla sociale oggi pomeriggio sono andato a casa della mia mamma che è molto anziana e istintivamente ho messo mano nella libreria del mio papà e ho preso dei libri antichi di medicina del 1930 1940 sono andato a studiare la fisiologia l'igiene e mi sono reso conto che il linguaggio degli scienziati di quell'epoca era un linguaggio molto più scientificamente umano di quello attuale perché pensate che nel contesto delle osservazioni più tecniche ponevano in prima linea indovinate che cosa l'auto osservazione psicologica del medico ma proprio con questa espressione sapete che significa si parlava di valori morali del medico si parlava di etica del medico 1920 1930 1940 e c'è qualcuno e c'è qualcuno che sta facendo degli esperimenti per portare la realtà artificiale a essere compresa da una così una sorta di energia di frequenza mentale e non si sa bene quale delle due prenderà il sopravvento quindi tutti quei film che vediamo con le macchine che diventano molto più aggressive degli esseri umani non è così remota da vedere e questo qualcuno molto famoso insomma eccetera eccetera così viene quasi usannato per fare questi tipi di esperimenti io starei molto molto attento a inoltrarci no in simili procedure cioè andrei davvero cauto tu cosa pensi da scienziato di questo campo ma io riscoprire il valore del laboratorio interiore perché l'essere umano ha dentro di sé un laboratorio che per raggiungere al massimo livello di sperimentazione concretamente utile per il progresso delle condizioni di vita dell'umanità deve accedere in modo sempre più intelligente e puro alla spiritualità all'etica alle doti morali al coraggio il coraggio di dissentire perché un'altra cosa che si nota molto in quest'ultimo periodo è che c'è una riesumazione di espressioni e concetti per esempio di tipo virologico infettivologico microbiologico che sono del passato ma di un passato che non regge più perché noi non possiamo considerare ancora il virus come era considerato negli anni venti dato che oggi il virus nei moderni trattati di microbiologia viene spiegato essere chiaramente una cosa completamente diversa direi l'opposto di quello che veniva presentato all'inizio del secolo quindi c'è molta confusione e i medici sono chiamati più che mai ad esprimere il massimo della cultura il massimo della conoscenza il massimo dell'onestà a ritornare ad essere come sempre è stato per Antonio Masia i dottori cedo la parola sì la cosa interessante che stai dicendo cozza un po' con questo mainstream che diciamo promuove i dispacci che ogni giorno citano come un bollettino di guerra i morti e i contagi che ci sarebbero ripeto quotidianamente ci spiegassero quali sono i contagi e come riescono a immaginare di così cogliere questi contagi dicono i contagiati sono X i morti sono X non dicono di che cosa e non dicono come avviene l'idea di misurare questo contagio noi queste cose le abbiamo apprese studiando come dovrebbero fare tutti i politici da persone come te da persone come Massimo Citro da persone come Francesco Oliviero da persone come Massimo Montinari come Stefano Montanari e tante altre Pasquale Bacco non vorrei citarli tutti quelli che abbiamo in questi mesi di ZTL portati al nostro cospetto ma anche al cospetto ovviamente di tutti gli amici che sono in linea ma anche loro stessi a promuovere iniziative di vario genere per ripristinare un po' quella che è la vera verità e che voi sapete bene tra l'altro io oggi ho portato grazie all'avvocato che mi segue all'avvocato Lauretta ho portato una denuncia a querela questa sia una denuncia a querela nei confronti di una testata giornalistica anzi la farei vedere Fabrizio cortesemente se riesci proprio per dire a tutti che così come c'è il consiglio tecnico scientifico peraltro promosso da persone come Salvatore Reino stiano tranquilli un po' tutti quelli che sono i vari detrattori ecco questa è la denuncia querela contro quella sotto quella specie non sotto specie no no quella specie di testata che si chiama l'inchiesta punto it e che ci ha chiamati setta ci ha chiamati adepti e quindi vi ha chiamati adepti di qualcosa io non so come si possa permettere a qualcuno che si dichiara essere una testata giornalistica di dare della setta ad un partito politico che si è presentato alle elezioni con un programma quindi costituzionale cioè questi devono assolutamente pagare per questa diffamazione a mezzo stampa appunto e gli è arrivata oltre che la querela che io ho depositato oggi con tutti gli articoli che sono stati in qualche modo evidenziati gli è arrivata anche una una pec da parte dell'avvocato Lauretta che ha già chiesto subito pro bono pacis cioè senti se la finisci qui ti chiedo solo 300.000 euro che noi daremo in beneficenza se invece non vuoi andare avanti invece che 300.000 euro preparati se il giudice ci darà ragione come inevitabile che ci dia preparati ad una una cifra molto molto più alta perché è ora di finirla che ci sia qualcuno che si lava la bocca con il fango basta basta ecco quindi così come abbiamo denunciato tutti i vari detrattori che si mascherano dietro linguacce e panifici e quant'altro sappiate che noi piano piano ma arriviamo alla meta e lo facciamo in maniera del tutto legale noi non andiamo a diciamo promuovere azioni che non siano perfettamente all'interno del mondo della giustizia ma la giustizia arriva arriva quella divina e arriva anche quella degli uomini della legge quindi ecco Saverio se volevi dire qualcosa rispetto a questa questa PEC che abbiamo fatto all'inchiesta punto it o qualcosa che magari ti ha suggerito Salvatore Reino ma questa PEC non è oltre che una richiesta in questa fase ma è diciamo una formula di rito perché aprirà lo scenario sempre giuridicamente legalmente da da andare a perseguire e soprattutto anche nella PEC la immediata rimozione di questo articolo dichiaratamente diffamatorio e la la l'invito a rettificare con un contenuto dove deve emergere in maniera chiara l'infondatezza delle dell'informazione assolutamente illegittima infondata gratuita e che voglio dire diffamatoria e in quanto tale diffamatoria 595 296 e via discutendo quindi voglio dire dai giornalisti e dai due apparenti giornalisti al commento del presidente di questa sorta di comitato per se dichiarato tale ha fatto considerazioni assolutamente gratuite riferite alla tua persona personalmente riferite alla al al coem riferite soprattutto e questo è molto grave ad un partito considerando setta dov'è la fondatezza di tutto questo quindi voglio dire poi tra l'altro mi pare che abbiamo anche un comitato nel governo che è sul controllo delle fake news quindi voglio dire sicuramente opererà di conseguenza signori il problema è che adesso è venuto il tempo che voglio dire bisogna veramente sbracciarsi cioè non non bisogna sbracciarsi nel pretendere quella che sia si vive di pane si vive di tante cose ma si vive soprattutto anche eh di quella che la memoria è il necessario è il sacrificio che hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri eh ognuno di noi è responsabile eh di quella eh immoralità o di tutto ciò che noi riteniamo essere oggi insopportabile tutti siamo corresponsabili di tutto questo c'è un momento in cui poi le coscienze si svegliano e debbono debbono necessariamente una persona due persone sappiamo bene cosa hanno fatto adesso basta basta non 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 ci può essere noi li abbiamo se lo sai Sameria noi li abbiamo quelli che tu chiami essere amici dei trattori io credo che sono veramente amici dei trattori perché hanno anche loro le loro famiglie qui sai in Sicilia si dice che eh tu hai i figli e vabbè non replichiamo tu hai pure i nipoti cioè finiamola voglio dire ormai basta ormai adesso si deve si deve andare avanti in modo serio perché proprio abbiamo anche i nipoti abbiamo tutto dobbiamo tutti un pochino rieducarci e rieducare e avere soprattutto in questo momento rispetto assoluto di incondizionato va bene su due ordini che sono per me sacri tanto quanto lo è la chiesa per quello che io cerco di essere cattolico ma soprattutto per due ordini importanti forze dell'ordine tutte indistintamente va bene e magistratura indistintamente va bene tu lo sai tu lo sai che noi fin dal primo giorno abbiamo fatto un disegnino in tutte le conferenze dove ai piedi di questo uomo vetroviano si può dire abbiamo messo in equilibrio abbiamo messo due M magistratura e forze militari perché siamo convinti che alla magistratura e alle forze militari vadano dati i servizi necessari gli strumenti necessari per essere soprattutto esercizio di prevenzione e non di cura perché quando arriva la cura in mano ai militari è ovviamente è pericoloso per cui è pericoloso perché naturalmente vengono in mano le armi e quant'altro se invece facciamo lavorare queste due grandi forze sulla prevenzione più che sulla cura beh io direi che riusciamo ad ottenere quell'equilibrio che noi promuoviamo da tempo ma siamo d'accordo con te mi permetto mi permetto soltanto e poi purtroppo devo lasciare questo piacevolissimo consesso ma meglio di me lo saprà dire Salvatore Rainò il grande per una su un punto passano infinite rette su due punti passa una retta soltanto i due punti sono quelli e quello deve essere l'orione su questa terra su cui credere la politica va e viene ma loro sono sempre presenti e dobbiamo avere il massimo rispetto sì io qui sono concorde con te anche se in questa in questo in questi due punti il perno centrale deve essere proprio la politica la politica che deve fare le regole attraverso le quali questi due punti ovviamente rispettando quelle regole che vengono promosse dalla politica portano avanti la prevenzione più che la cura e a questo punto ringraziando non puoi dire che è questo da politico che sei esatto ma ritengo che la miglior magistratura e le migliori forze militari al mondo siano proprio quelle italiane che poggiano su un aspetto politico che è quello della Costituzione italiana per cui alla fine la magistratura pur nel suo rispettoso angolo di a 360 gradi di visione complessiva poggia sulla legge promossa dalla politica cioè la politica deve essere sempre il centro di eccellenza di ogni natura perché altrimenti se non c'è la politica viene a mancare tutto il resto e quindi anche la magistratura le forze militari che invece di fare una cosa ne farebbero un'altra Maurizio scusami siamo tutte persone siamo tutti indubbiamente persone che ci protichiamo a cercare di essere sempre migliori l'auspicio che io faccio soprattutto a te a tutti voi ma soprattutto a questo mondo migliore che veramente ci ci auguriamo ma e di cui i protagonisti non possiamo che essere tutti noi tutti 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 sia quelle che oggi siamo presenti e gli altri è comunque quello che ognuno di noi deve questo cerco di ricordarlo sempre a me stesso ogni giorno essere capaci di riuscire a poter fare riconoscere i propri limiti e non andare mai oltre il politico il politico l'avvocato l'avvocato le maestre o maestri le maestre i panettieri i panettieri i figli e le figlie che fanno i panettieri debbono fare i panettieri e ognuno non deve rompere le scatole all'altro ma dobbiamo invece tutti lavorare per una determinata situazione le linguacce lascia le perdere perché poi voglio dire l'hai detto grazie Saveri grazie allora sappiamo che tu da domani come hai fatto in questi giorni sei a disposizione del tutto diciamo il consesso che ha voluto premiare questa nostra azione quindi ecco ti auguriamo di starci vicino con la passione che hai sempre dimostrata mi sembra scusami Emanuela perché forse mi stavo dimenticando che l'avevo detto all'inizio forse c'era anche una domanda in particolare di Andrea Andreini e lui è in linea io non l'ho visto tu Fabrizio lo vedi no mi dici no bene allora niente sarà per un'altra volta quindi grazie Fabrizio poi sentirai registrate le parole grazie Saverio scusami sentirai in registrazione più avanti le parole che dirà lasciando il microfono adesso a Fabrizio Azzolini Caro Fabrizio a te vorrei chiedere una cosa in particolare poi lasciandoti le riflessioni del caso ci siamo detti tempo fa che a settembre ottobre con la nuova ondata di influenze lo scenario attuale e quello che vediamo con il prolungamento delle misure eccetera eccetera non può che far presagire qualcosa di davvero pericoloso cioè noi stiamo diciamo così affrontando un periodo che potrebbe delineare dei TSO abbastanza così gratuiti piuttosto che la vaccinazione è obbligatoria eccetera eccetera allora tu che sei un uomo che viaggia un po' in tutta Italia in alcuni ambiti importanti della finanza dell'economia eccetera e in questo momento anche come presidente di una confederazione che ti occupa la giornata in maniera così preponderante cos'è che senti qual è quell'effetto di sbracciamoci che interviene nelle persone o invece che lo sbracciamoci e ritiriamoci e speriamo che qualcuno faccia al posto nostro qualcosa come la vedi grazie Maurizio e grazie direi all'avvocato Lauretta al dottor Raino e grazie a tutti coloro che sono qui questa sera e che come dicevi tu all'inizio hanno dimostrato maturità nel venire nonostante il mese di agosto venire a passare una serata insieme a noi per capire di più per avere qualche informazione più utile io l'ho sempre detto nelle così nelle riunioni che faccio per l'Italia che l'esposto era lo strumento sicuro e poi ho anche detto ci chiamiamo consorsi sicuri con sì consorsi sicuri dico ve lo diciamo che l'esposto era lo strumento sicuro per poter far sì che questo stato che non informa ma che invece quotidianamente blocca le persone vuole che le persone facciano a tutti i costi ciò che indicano i nostri governanti senza informare senza dire il perché di certe azioni ebbene questo era ed è il momento giusto per poter chiedere all'autorità giudiziaria visto che i governanti non si muovono di dire con chiarezza quello che c'è stato in questi mesi quello che c'è stato in questi mesi a parte i morti che ci sono stati ma l'anno scorso a me non hanno mai detto quanti morti negli ospedali c'erano e quanta gente era ricoverata ce l'hanno detto quest'anno ce l'hanno detto in maniera così pesante perché non c'è momento che uno apra la radio apra la televisione e io che giro in macchina e come te e sentiamo sentiamo la radio ad un certo punto c'è sempre il covid di mezzo vorrei una volta contare quante volte lo dicono in una giornata allora io credo che i nostri le nostre strutture la nostra associazione sia a livello nazionale regionale e provinciale è nata sì per dare i servizi a questo programma mondo migliore ma è nata anche per far sì che la gente si evolva diventi diventino migliori diventino più informati e non che ad un certo punto bevano tutto quello che gli si dice allora credo che chi voleva perché nessuno può obbligare nessuno però chi vuole lo strumento è a disposizione per l'amor di Dio gli strumenti sono migliorabili e possono essere migliorati non c'è nessuna cosa al mondo oggi che non si possa migliorare però ad un certo punto lasciatemelo dire che il Coem e il PVU ci ha dato uno strumento che possiamo tranquillamente adoperare se poi ce ne infischiamo se poi come dico sempre io siamo qua solo per quel quid che ogni volta che lo dico mi fa ribrezzo ma non perché io abbia troppi soldi o perché io non abbia bisogno ma perché non possiamo vivere tutta la nostra vita solamente con quelle cose in testa dobbiamo renderci conto che verrà ed è vero che le carte sono arrivate nel mio studio è vero ci sono le famose carte brandizzate ricaricabili che avranno il primo avrà il primo test di mille persone ma io dico anche e l'ho detto in una riunione sua a Vicenza quella quelle mille persone dovranno essere come dei missionari che andranno per l'Italia e andranno nei Clem e andranno in tutti quei luoghi deputati alla discussione del sociale per dire che cos'è il programma Mondo Migliore perché secondo il mio punto di vista sento e tu mi dicevi cosa sento che il progetto non è stato ben assimilato dalle persone questa è la perfetta sensazione che io e che perché mi piace e faccio fatica per l'amor di Dio ad avere queste cariche e andare nelle nei Clem andare nelle province eccetera ma perché perché senti tocchi con mano diciamo che ad un certo punto c'è gente che non ha capito il progetto allora se sono passati cinque anni e non si è capito il progetto ditemi voi se ad un certo punto non possiamo fare un test di mille persone qualificate che vadano a dire agli altri guardate abbiamo e parlato in questo modo dovete ragionare in questo modo non perché siamo una setta ma perché la gente che non conosce bene il progetto quando parla fa dei malanni allora io ve lo dico voi sapete che io sono sempre lingua schietta ve lo dico è neanche inutile che uno dica sono stato cinque anni nel progetto sono stato qui sono stato là siete stati cinque anni se qualcuno non l'ha capito vuol dire che c'è stato per niente e questo lo dico fuori dai denti perché dobbiamo essere persone unite che ragionano per un mondo migliore il mondo migliore vuol dire sapere le verità come in questo caso sapere le verità non solo della non sono non solo della sanità ma di anche certa parte della magistratura lasciatemelo dire io la o seguio la magistratura però c'è anche una certa parte si dica le verità si si mettano in chiaro tutte le cose che sono state secretate fino ad oggi questo è perché il cittadino sia sul ponte Morandi sia ancora sulla strage di Bologna deve avere dei punti ancora secretati ma i cittadini o sono maturi o non sono maturi allora se vogliamo proprio diventare uomini e donne di domani e che i nostri figli non diventino schiavi solo del computer che ormai io vedo della gente che sembra simonita è simonita davanti al computer deve invece aprire le proprie meningi per capire che cosa deve fare questa è io lo dico serenamente perché tutti i giorni vivo intensamente la mia professione e il ruolo che ho all'interno del Consigli e vi devo dire che è una sofferenza ogni volta che sento una persona di Roma un PO di Roma che si è stabilito a Roma in questo periodo mi ha detto sono in un claim e non so cosa fare perché non fanno niente sono lì che aspettano ma scherziamo non fanno niente sono lì che aspettano per me possono aspettare altri cinque anni grazie scusate della franchezza ma quando ci vuole ci vuole allora si capisce insomma per tutto quello che si sta facendo si capisce che più di qualche volta c'è lo sfogo io dico sempre a te come ad altri e in tante conferenze caro Fabrizio che cinque anni sono tanti ma a cinque anni si va ancora all'asilo si fa forse la primina prima di arrivare all'università dopo trentacinque anni ce ne vuole e quindi bisogna comprendere capire bisogna fare in modo di saper discernere fra le persone che si sono davvero sbracciate come dice Falcone come diceva prima l'avvocato Lauretta e tu sei uno di questi ma ci sono anche quei quattromila che sono andati a fare il deposito che si sono sbracciati ci sono quei 27.000 che si sono iscritti a Consì e sicuramente quelli sono i numeri di chi ha veramente compreso fino in fondo un progetto certo dobbiamo comprendere che il coraggio di andare dai carabinieri con un esposto per una persona insomma non avezza queste cose non è facile quindi ci vuole un po' di tempo noi questo tempo malgrado tutti questi attacchi e un po' soprattutto la vergogna di una stampa di una tv di una radio che ci isola completamente che non ci permette di entrare nei programmi benché magari paghiamo per entrare all'ultimo momento ci dicono di no ecco queste cose un po' alla volta vedrete che finiranno finiranno in bene perché perché dimostreremo che quelle carte delle mille persone saranno riempite abbiamo sempre detto che aspettiamo una documentazione per non mettere in pericolo il progetto documentazione che arriverà perché Consì ha fatto le cose in maniera perfetta grazie a te e a tutti quelli che tu hai scelto e che insieme ai CLEM si sono scelti per fare i diversi Consì regionali provinciali eccetera allora un po' alla volta questi esempi concreti porteranno le persone ad avvicinarsi perché è vero che dopo cinque anni se a fronte di tutti questi attacchi non ci hanno portato in tribunale è perché siamo stati seri è perché abbiamo fatto le cose per bene e perché non abbiamo mai diciamo oltrepassata la linea che poteva portare in atti poco poco seri rispetto la legalità noi siamo sempre stati dalla parte della democrazia e questo ognuno delle persone che abitano nei vari CLEM più o meno diciamo così sbracciati sì io li definisco eroi allora ci sono eroi che sono anche partigiani del terzo millennio e ci sono eroi che stanno aspettando un po' di più di poter fare qualcosa che a loro venga a genio o che gli sia in qualche modo proposta con più praticità rispetto tutte le parole che diciamo le filosofie che ci sono dietro un progetto così di ingegneria articolata tutte cose che verranno col tempo e come abbiamo già dimostrato in alcuni ZTL fra un po' sarà chiara la dimensione della Human Crypto Bank con il suo pass e con il suo Human e quindi permetterà a queste mille persone di fare il test facendo quello dimostrando quel valore per ottenere quel virgolette quel compenso non è un compenso non è un reddito ma è la dimostrazione di un'azione solidale per cui stiamo dimostrando qualcosa di eccezionale quando anche iniziative che grazie a Dio vengono prese come quella di Bio Blue sono la persona con il più alto numero di visualizzazioni caspita no ma ma non perché sono bello e simpatico perché un diciamo un conduttore come Claudio Messora dotato davvero di grande spessore culturale eccetera e in quell'incontro ha avuto la sensazione che parlavamo davvero di cose nuove l'unità di misura non variabile della moneta ma chi è che l'ha mai detto e cioè stiamo dicendo delle cose che hanno un fondamento il cambio di paradigma il nuovo umanesimo prima o poi questi cinque anni vedrete che se da bambini dell'asilo passeremo alle elementari con questi esempi e diventiamo subito uomini da università perché ormai le tecnologie vanno avanti e quindi sono convinto che riusciremo a dare una laurea presto a molte persone perché quando cominceranno a vedere che il referente regionale con sì sociale eccetera piuttosto che quello provinciale hanno in mano o la parte del coordinamento hanno in mano quella carta che abbiamo sempre agognata ricaricata eccetera eccetera e allora e allora ci sarà molta gente che si farà avanti per chiedere sia quelli che erano nei clem che sono nei clem e quelli che invece dei clem verranno a chiedere di poterci partecipare di poterci partecipare bene Salvatore Reino ti vediamo così assorto ad ascoltarsi e non perdi una parola ma noi siamo fieri di averti con noi siamo felici io ogni volta e penso che sia così l'espressione vedo nello sguardo di molti che annuiscono con la testa avere una persona come te come tanti altri medici che si sono fatti vicini ripaga davvero di tutte le sofferenze di tutti i momenti in cui ecco con tutte le accuse piovute addosso ti veniva forse lo scoramento di poter proseguire ma grazie a persone come te noi siamo quale Ferrari cioè siamo Ferrari Rolls Royce tutte le macchine possibili immaginabili Tesla eccetera insieme grazie Salvatore perché perché davvero come come presidente di questo comitato tecnico scientifico saprai inchiodare alle loro responsabilità chiunque potrà dire delle amenità delle stupidità su questo virus che hanno fatto diventare uno spauracchio e che è davvero puerile non so che altre parole trovare per per definire una mentalità così mentecata nel promuovere iniziative di questo tipo so che c'è in linea Andrea Andreini vestito da Lorella Rigucci giusto? ecco perché non lo trovavamo e allora Andrea il nostro grande Andrea un'altra qua un'altra interferenza queste queste interferenze un po' strane allora dicevo buonasera Maurizio ah ci sei eccolo qua ma la Lorella è lì a fianco a te però buon 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 Lorella ciao allora tu volevi farci una domanda che oggi ci siamo fatta per telefono abbiamo fatto un po' una riflessione no? e quindi io ti ho detto a volte sono molto critico e sai che la mia critica a volte porta anche ad avere poi le risposte giuste no? sicché credo sempre di fare delle cose che poi vanno in positività purtroppo lo sai benissimo sono sanguigno ho un carattere particolare che manda affanculo la gente però almeno sono sincero so quando dico le cose so quello che dico sono rimasto soddisfatto stasera per la comunicazione di questo esposto perché come tanti altri aveva avuto dei dubbi e invece stasera mi ha dato i carabinieri di Bucine e consegneremo l'esposto io e Lorella grazie 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 sono d'accordo con tutto quello che è stato detto anche da Fabrizio Azzolini che il nostro presidente del consiglio che si sta facendo un mazzo tanto per tutti noi anche se a volte sono critiche anche con lui perché mi conosce però credo che siano critiche che ci fanno crescere tutti si fanno crescere davvero no sono critiche costruttive un po' l'esperienza anch'io me la so fatta nella vita sicché riesco a percepire i messaggi quelli positivi e quelli negativi magari li espongo nella maniera sbagliata però sono esposti nella maniera e poi arrivano e capiscono tutti sì come no alla fine quando c'è il confronto il confronto anche quando è magari aspro riesce se si ha la voglia di costruire non di distruggere riesce sempre a trovare la via per creare qualcosa di positivo come ti dicevo stamattina noi abbiamo faticato tanto perché come ha detto Azzolini purtroppo c'è solamente una piccola parte di questo popolo dei claim di 97.000 aderenti che ha capito il progetto e non siamo mai arrivati nemmeno al 20% è vero è vero è vero e io fin dall'inizio avevo detto mi basterebbe arrivare al 20% che vedrai che parte guarda caso partiamo anche se non siamo arrivati al 20% però quanti attacchi quante lamentele quanti pianti da parte delle nostre mogli dei nostri amici dei nostri figli che si sono sentiti abbattere dalle sciocchezze diciamo di molta gente pazienza non potevamo fare un progetto così grande che cambia il paradigma senza portare la croce con amore noi abbiamo cercato di portare questa croce con amore e dalle prossime settimane quando faremo un incontro con i mille ma sarebbe bello che fosse magari per fine agosto a Cine città ma che figo un bel cinema a Cine città qualcuno mi ha già proposto di partecipare con i nostri mille perché no magari potremmo partecipare in 12.000 e quindi i mille a far vedere che questa cosa arriva e gli altri a far a capire che grazie all'esperimento che faranno questi mille per non cadere in tentazione e sbagliare qualche cosa gli altri 12.000 in fretta in breve raggiungeranno quello che i mille dimostreranno giusto giusto tu sai questi cinque anni anche nonostante la mia salute tutto quello che abbiamo fatto insieme perché Andrea la Toscana credo ha creato 30 eventi nei cinque anni e tu sai al minimo c'era sempre mille persone senz'altro sì ma guarda la Toscana con la sua espressione sanguigna piuttosto che tutte le altre regioni chi più chi meno siete stati tutti splendidi ripeto quello che conta sono i 97.000 questo ha contato che ci sono lì stanno come si suol dire in sonno aspettando la sorpresa che mai arriverà perché i rischi per stare in un claim ditemi voi se ci sono rischi quindi siccome vedranno che arriverà e allora sarà più facile diciamo convincere a studiare davvero perché comunque un minimo di studio di un progetto così articolato e vincente è giusto che sia fatto diciamo che per noi comincerà il lavoro serio ora senz'altro sì io credo che grazie alla struttura che avete creato istituzionale cioè istituzionale come lo sono i CLEM e come lo è il COEM e come lo è il PVU però la vostra è una struttura istituzionale che diciamo percorso tutto quello che la legge chiede ad una associazione di promozione sociale come la vostra quindi con tutte le capacità giuridiche che permetteranno di salvaguardare questo aspetto che noi abbiamo spiegato molte volte deve essere un aspetto di esempio pilota per tutti gli altri quindi io ne sono sempre stato convinto sapevo che bisognava superare moltissimi ostacoli sapevo che avremmo trovato persone di variegate di ceti sociali diversi sapevo che all'inizio i ceti sociali sarebbero stati più così umili più bassi perché l'idea di 1500 attrae è stata la cosa che ci ha permesso di essere qui e quindi un po' alla volta sapevo che sarebbe però venuto anche il resto e quando noi vediamo medici come Salvatore Reina come tutti gli altri che non cito per non rifare l'elenco piuttosto che Azzolini piuttosto che tantissimi che tutti voi conoscete nelle vostre zone beh direi che dirci eroi in mezzo a questa vicenda è dir poco dall'inizio di questa terza guerra mondiale ci autodefiniamo anche partigiani etici del terzo millennio e ritengo che il il percorso sia davvero da da partigiani bene ascolto vorrei ringraziare Fabrizio Salvatore Ranocche una veramente una pietra migliare del nostro del nostro progetto e anche Bassanesi che so che si sta facendo un mazzo tanto per quel discorso delle rito valute e credo anche di aver avuto un po' di apporto giusto Fabrizio e per quello riguardo invece il PVU non so se sei accorrente qui da noi io ho cercato di creare un gruppo che ora si stanno formando piano piano fra di loro e sono partiti dalle basi dei consiglieri comunali già cominciano a a darsi da fare insomma che al momento opportuno tu avrai già una squadra già formata grazie grazie noi dobbiamo lavorare perché non io ma il partito abbia una squadra sempre più formata dobbiamo lavorare e ci stiamo lavorando affinché ci sia si trovi un segretario politico del partito valore umano perché è questo il mio obiettivo trovare un ragazzo o meglio ancora una ragazza che abbiano le capacità di poter formarsi e promuovere una strada politica che sia abbracciata sempre di più da persone che comprendano quanto la politica di eccellenza sia l'eccellenza delle eccellenze di ogni comparto perché io sono impegnato non posso farlo quindi bene grazie a Lorella grazie ad Andrea grazie a Maurizio e alla prossima alla prossima occasione Fabrizio Salvatore volete aggiungere qualcosa ci sono altre domande Emanuela chiedo a tutti voi eh sì Maurizio c'è una domanda particolare te la farei prego eh mi sono trovato oggi inserito in una chat telegram di nome il milione vedo che riguarda un movimento che si chiama rinascimento Italia ci sono tutti i capitani e vedo che ci sei anche tu Maurizio hanno a che fare con noi in che senso ci sono anch'io che saresti tu anche dentro questa chat ah allora vedo i capitani vedo anche te hanno a che fare con noi cosa dobbiamo fare come si chiama questa chat allora si chiama il milione e all'interno noi siamo quelli dei 1500 ancora al milione non ci siamo arrivati e direi che eh per rispondere a tutti il sottoscritto non è entrato in nessuna chat chi ha messo dentro me eh in una chat senza avvertirmi non ha fatto qualcosa di serio ha fatto una cosa di rubato e non va bene allora io adesso chiamerò la Paola Marcato Bassanesi che vadano a togliermi da questa da questa chat quantomeno chi fa un'azione del genere avverta vuoi entrare in questa iniziativa perché se si fanno le cose in questo modo non va bene non va bene ora io non so che cosa sia non so e quindi se senza sapere non posso certo mettermi a riflettere a giudicare no quello che fa o che si fa all'interno di questo milione non so se è una cosa finanziaria non so che cos'è dico solo che non è giusto non è corretto che qualcuno prenda le persone senza dirglielo e le metta dentro una chat ecco questo valga per tutti quindi per favore Fabrizio Bassanesi rintraccia chiunque abbia fatto il milione mi avevano messo dentro anche a me ma sono uscito perché proprio non era chiaro benissimo allora cortesemente andiamo a verificare chi c'è dietro questo e magari ci sono persone per bene ma spieghiamoli che così non si fa se vogliamo mettere qualcuno nella chat lo avvisiamo perché è corretto che sia così ci sono anche altre persone che vogliono intervenire nel frattempo Fabrizio vuoi rilanciare qualcosa Azzolini c'è il microfono spento eccolo vai diciamolo perché se no sembra che siano arrivate le carte e siano così sono là addormienti e invece domani pomeriggio noi non ci saremo l'ufficio non ci sarà per nessuno perché dalle tre in avanti facciamo la formazione la formazione per la ricarica delle carte perciò ci diranno come fare poi faremo però per capire e per prepararci a far tutto e queste cose perciò ci diranno la parte amministrativa come come va fatta ecco perché se no rimaniamo con belle belle cose però che non sappiamo allora faremo faremo proprio sul campo ci saranno quindi ci saranno quindi due momenti ritengo tu stia dicendo questo ci sarà il momento della ricarica della comprensione di come si ricarica questo tipo di carta e ci sarà poi il momento di quella ricarica delle mille e cinque per i mille che ovviamente dovrà prima soddisfare l'iniziativa ho acquisito dei pass perché ho fatto una serie di cose e quindi questi mille stai sicuro che i pass ce l'hanno già perché li hanno ottenuti tranquillamente dalle varie iniziative fatte e sempre di più si dovrà entrare nel meccanismo di questo passaggio io ho dato solidarietà e ho ricevuto un pass due pass cento pass o quant'altro da chi questa solidarietà da me l'ha ottenuta quindi ecco sono delle cose domani noi facciamo la formazione tecnica proprio come va caricata dopodiché quando sarà ora quando sarà ora con nomi cognomi indirizzi questo lo faremo assieme eccetera va bene benissimo perfetto la nostra gente deve essere preparata benissimo Emanuela c'è qualcun altro se no farei chiudere a Salvatore Reino leggerei solo un'ultima domanda prego referente provinciale di Vercelle chiede vorrei sapere come un PO che attualmente è impossibilitato ad uscire di casa per seri problemi di salute possa depositare l'esposto abbiamo chiesto ai carabinieri di andare a casa sua ma non ci vanno insomma adesso poveri carabinieri non facciamogli fare delle cose che sono fuori ordinanza allora direi che la cosa fattibilissima anche questo dirò a Fabrizio Bassanesi di metterlo sul sito con un tasto apposta si spedirà il proprio esposto con la firma tramite magari i nostri referenti regionali provinciali comunali eccetera lì si spiederà all'ufficio dell'avvocato Saverio Lauretta e quindi gli si darà procura speciale perché lui possa depositare il nome per conto non l'abbiamo detto subito perché se no tutti avrebbero fatto così invece è importante che non solo se arrivi a quei 4.000 come siamo arrivati ma che sempre di più grazie alla comunicazione che è al passaparola che andranno avanti noi si deve arrivare entro il 31 ottobre ad essere più di qualche milione di persone che fanno l'esposto questo deve permetterci di non far star tranquillo nessuno noi dobbiamo continuare a battere come fa la goccia sulla roccia fino a che la roccia voglio dire si apre bene nel ringraziare proprio tutti direi che lascio la parola finale a Salvatore Reino che saprà chiudere questa nostra serata di par suo amiche amici tutti Maurizio mi viene una frase dal cuore quando la politica mirerà alla vera scienza e la scienza mirerà alla vera politica avremo un sistema di amministrazione della vita pubblica perfetto noi abbiamo le migliori carte in regola per essere tutto questo buonasera a tutti me la scrivo me la scrivo grazie a tutti buonanotte ragazzi a presto perché le novità le abbiamo già dette questa sera ci saranno tutte grazie